All'alba del lancio delle nuove Radeon della serie 9000 da parte di AMD oggi rivisitiamo una delle schede grafiche più controverse della scorsa generazione cioè la Radeon RX 7900 XT da 20 GB di VRAM Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Rintendaro Pazzo oggi siamo qui per una recensione della Radeon RX 7900 XT proprio poco prima del lancio delle nuove Radeon basate su architettura RDNA 4 come vi ho detto dall'intro questa secondo me è una delle schede grafiche più controverse dell'ultima generazione per il semplice fatto che uscì al lancio nel 2022 con un prezzo MSRP di 900 dollari per poi essere abbassato repentinamente nel giro dei mesi fino all'attuale soglia di 680 euro alla quale possiamo comprare anche questa custom della ASRock e quindi sì, oggi nel 2025 andiamo a rivisitare questa RX 7900 XT con però un'altra minaccia potremmo dire cioè quella dell'uscita delle nuove Radeon che potrebbero far sì che questa scheda al prezzo attuale possa non avere più molto senso quindi mi raccomando ovviamente tutte le considerazioni finali le vedremo dopo aver visto i benchmark e ora direi però prima di passare alle specifiche tecniche e alla piattaforma di test ovviamente vi ricordo come sempre di iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio detto questo, inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi l'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato in entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top infine vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale di TikTok e ora direi di riprendere con questa Radeon uscita verso la fine del 2022 questa RX 7900 XT si presenta come un'alternativa di fascia alta facente parte della line-up di GPU AMD basata sull'architettura RDNA3 come vi ho già anticipato questa al lancio costava 900 dollari 100 dollari in meno in termini di prezzo MSRP rispetto al modello flagship cioè la 7900 XTX andando effettivamente abbastanza meno però con la sorella maggiore condivide lo stesso chip di silicio infatti ritroviamo il Navi 31 con all'interno 5376 core sbloccati che operano a una frequenza di boost dichiarata di circa 2400 MHz però con i modelli custom come questo vedremo che la frequenza arriva facilmente anche a 2,7 GHz che non è niente male anche il comparto VRAM è molto interessante perché al suo interno ritroviamo 20 GB di memoria VRAM GDDR6 con un bus a 320 bit per un totale di bandwidth di 800 GB al secondo che rispetto anche alle controparti Nvidia non è niente male poi ovviamente bisogna vedere come si comporta nei giochi e negli applicativi ma questo lo vedremo fra pochissimo un altro aspetto importante è il TDP che in questo caso si attesta sui 300 Watt e anche il consumo relativo non si allontana di molto da questa soglia nel caso di questa custom infatti arriviamo a un consumo massimo osservato di 315-320 Watt che comunque per il livello di prestazione offerto da questa scheda non è niente male per quanto riguarda il modello di custom che metteremo sotto test nel video di oggi abbiamo questa Asrock Phantom Gaming che è una versione triventola come vedete che occupa 3 slot e devo dire è molto solida come custom anche se magari si la parte frontale che tiene le ventole è di plastica comunque di buona qualità ma come la maggior parte delle schede video il backplate comunque in metallo e la scheda si presenta solida con due connettori P6 Express di alimentazione ausiliaria da 8 pin per alimentarla anche se le dimensioni non sono sicuramente minuscole però non è una scheda enorme così ingombrante che non possiamo metterla da nessuna parte quindi devo dire per poi avere in cambio delle prestazioni che sono ottime dal punto di vista della rumorosità e delle temperature Asrock ha fatto sicuramente un buon lavoro quindi abbiamo visto specifiche tecniche e custom in questione direi che ora tocca alla piattaforma di test che è sempre la nostra test bench con Ryzen 7 7700 a 5,3 GHz su tutti i core accompagnato da una scheda madre Asus ROG Strix X670e Gaming Wi-Fi 32 GB di RAM DDR5 6000 MHz CL30 come alimentatore abbiamo il Thermaltake Tough Power da 1050 Watt 80 Plus Platinum come dissipatore per la CPU abbiamo l'Endorfi Navis F240 ARGB e infine come SSD abbiamo il Crucial T500 da 2 TB detto questo direi che ora possiamo partire con i benchmark ho deciso di confrontare la 7900 XT con altre due schede grafiche che più o meno appartengono allo stesso livello di prestazioni la RTX 3090 e la RTX 4070 Ti Super sempre di Nvidia nel caso di quest'ultima però ci tengo a precisare che i risultati che vedremo appartengono a quelli del video di diversi mesi fa quindi non sono aggiornatissimi mentre quelli della 3090 lo sono detto questo direi che possiamo partire con Blender Open Data 4.0 in questo caso vediamo un netto vantaggio per le schede grafiche RTX purtroppo la 7900 XT rimane indietro come in diversi benchmark di rendering e anzi soprattutto in quelli che sono esclusivi per le schede Nvidia su Geekbench 6 invece vediamo comunque un vantaggio per la 7900 XT in Vulkan rispetto alla 3090 ma la 4070 Ti rimane in vantaggio mentre su Specview Perf è un caso emblematico perché in questa suite di benchmark professionali vediamo che la 7900 XT è in vantaggio su tutti i benchmark che vedete elencati partiamo con Control che in 1440p e settaggi di Digital Foundry ha un leggero vantaggio con la 7900 XT 180 fps contro 172 e 175 in 4K stessi settaggi confrontiamo solamente i risultati della 7900 XT con la 3090 e vediamo che la Nvidia è in vantaggio perché non aveva i risultati della scheda 4070 Ti su invece Control in 1440p internamente per la 7900 XT con gli altri risultati invece in 4K e DLSS vediamo dei framerate molto simili tra di loro sulla Wake 2 1440p e risoluzione upscalata con FSR per la 7900 XT e DLSS per le altre schede vediamo dei risultati di framerate in vantaggio per la 7900 XT in 4K sempre upscaling quality vediamo un vantaggio non indifferente per la scheda Radeon però ci tengo a precisare che la qualità del DLSS è sicuramente superiore all'FSR in pad tracing purtroppo la 7900 XT anche con l'FSR performance non riesce a ottenere dei risultati discreti mentre la 3090 ancora ancora si difende bene su Death Stranding 1440p e settaggi maxati abbiamo dei framerate molto simili tra la Radeon e la 4070 Ti Super la 3090 rimane un po' indietro in 4K settaggi maxati anche in questo caso vediamo però un leggero vantaggio per la 4070 Ti Super 130 fps con 326 della Radeon su Fortnite 1440p da RTX 12 settaggi medi le schede Nvidia sono in vantaggio di insomma qualche decina di fps nulla di chissà che cosa però comunque un vantaggio c'è in 4K stessi settaggi 150 fps contro 161 qui la Radeon recupera abbastanza sulla scheda Nvidia passiamo ora a God of War testato in 1440p e settaggi al massimo la 7900 XT ha un risultato in framerate decisamente superiore rispetto alle schede Nvidia quindi niente male in 4K con upscaling quality ovviamente FSR per la Radeon e DLSS per le 4070 e 3090 vediamo lo stesso un vantaggio per la 7900 XT in 4K maxato confrontandola con la 3090 vediamo un vantaggio non indifferente per la 7900 XT 100 fps contro 87 di media su Cyberpunk 2077, 1440 e settaggi di hardware unboxed vediamo che la 7900 XT è in leggero vantaggio rispetto alla 4070 Ti Super e la 3090 in 4K le schede Nvidia recuperano un pochino 76 fps contro 74 e 71 della 3090 che rimane un pochino indietro ma comunque con un risultato perfettamente godibile in 4K upscaling performance e però ray tracing ultra non path tracing la 3090 sfruttando anche l'upscaling del DLSS 4 rimane in netto vantaggio su Resident Evil 4 remake 1440p e priorità alla grafica come preset abbiamo un vantaggio per la Radeon 181 fps contro 160 della 4070 Ti Super in 4K i preset RT anche se è un gioco che non va a sfruttare chissà quanto ray tracing la scheda Radeon rimane un pochino in vantaggio su The Finals 1440p e settaggi medi però senza ray tracing 171 fps contro 170 della 3090 i prossimi risultati che vedremo secondo me sono molto influenzati dal DLSS che offre effettivamente una qualità superiore su The Finals siamo a 135 fps con i 1440p upscaling quality è tutto epico con anche ray tracing mentre in 4K upscaling performance è sempre tutto epico sempre la 7900 XT rimane in vantaggio rispetto alle altre schede ma secondo me come vi ho già detto è dovuto al fatto del upscaling che è insomma più pesante il DLSS anche però in termini grafici è migliore su Black Meat Vukong anche qui abbiamo l'upscaling FSR che porta dei risultati molto simili tra le schede in 1440p con ray tracing ultra purtroppo la 7900 XT non riesce a rimediare un risultato giocabile su Age of Mythology Retold 4K maxato senza ray tracing abbiamo in tutti e tre i casi i frame rate molto buoni però le GPU Nvidia sono superiori anche se non di tanto in 4K con ray tracing divino rimane il vantaggio di Nvidia in questo caso 84 fps per la 70 Ti Super contro 70 della 7900 XT su Final Fantasy 16 1440p upscalato setaggi maxati 100 fps contro 87 e 93 della 3090 in 4K upscaling performance anche qui però l'FSR ha una qualità inferiore rispetto al DLSS ma così riusciamo a fare più fps con la 7900 XT rispetto alle schede Nvidia in 4K nativo 47,9 fps contro 41 della 3090 e detto questo direi di passare ora alle considerazioni finali ed eccoci qui ragazzi dopo aver visto le prestazioni di questa RX 7900 XT negli ambiti di produttività e di gaming a essere sincero devo dire che sono rimasto impressionato dalle prestazioni che ha questa scheda in raster quantomeno quindi negli ambiti di rendering senza utilizzare ray tracing perché superiamo praticamente sempre le prestazioni della RTX 4070 Ti Super che è una scheda che costa decisamente di più al momento attuale rispetto a questa 7900 XT parliamo infatti di 850 euro contro 680 a cui possiamo acquistare questa 7900 XT nuova che non è poco però ovviamente dall'altra parte abbiamo sì delle prestazioni negli ambiti di ray tracing nei giochi che fanno largo uso di effetti grafici basati su ray tracing sì le prestazioni della 7900 XT lasciano molto a desiderare soprattutto abbiamo visto Alan Wake 2, Black Me 2, Wokong e anche Cyberpunk in parte soprattutto se poi avessimo utilizzato il path tracing in quel caso proprio le prestazioni sarebbero state proprio ingiocabili però alla fine se consideriamo che questa scheda la paghiamo in una cifra comunque ben inferiore rispetto alla 4070 Ti Super alla fine magari molti videogiocatori che sono più indirizzati verso i giochi competitivi multiplayer oppure anche gli ambiti di produttività abbiamo visto alla suite di benchmark Specview Perf in tutti i casi questa 7900 XT andava meglio e non di poco rispetto alla 4070 Ti Super quindi anche qui se dovete utilizzare questa scheda video per lavorare in uno di questi ambiti a questo prezzo secondo me è oro colato consideriamo anche i 20 GB di memoria VRAM che non sono pochi tra l'altro ha un bandwidth superiore rispetto a quello che ha la 70 Ti Super di NVIDIA passando ora alla questione prezzi e se acquistare o meno questa 7900 XT a inizio del 2025 io se mi dovessi mettere nei panni di qualcuno che deve comprare una scheda video con questo budget in questo esatto momento sinceramente aspetterei proprio un pochino per vedere le prestazioni delle nuove 5070 e 70 Ti che sì forse la 5070 avrà un prezzo MSRP simile a questo della 7900 XT da vedere il livello di prestazioni e a questo punto aspetterei anche marzo 2025 per vedere queste nuove RX 9070 e 9070 XT che potrebbero essere molto interessanti dal punto di vista del rapporto qualità prezzo e dovrebbero avere a disposizione da subito almeno in qualche gioco l'FSR 4 che abbiamo visto recupera molto in termini di qualità grafica rispetto alle versioni precedenti c'è da dire un però nel senso che se troviamo questa scheda grafica usata oppure anche nuova da un venditore impazzito sotto i 600 euro ben al di sotto dei 600 euro potrebbe valere la pena direttamente schippare questo periodo d'attesa e prenderla perché con questo livello di prestazioni a questa fascia di prezzo quindi potremmo dire 550 euro 560 intorno a questa soglia secondo me è difficile che insomma sappiamo già Invidia non andrà a puntare per adesso su questa fascia di prezzo perché la 5070 sarà a 660 euro AMD potrebbe sì con magari la 9070 però non è detto che arrivi a un livello di prestazioni pari a questo della 7900 XT e per questo motivo ripeto a questa soglia di prezzo sotto ben al di sotto dei 600 euro la 7900 XT vale sicuramente la pena in tutti gli altri casi ve l'ho già detto abbiamo fatto 30 facciamo 31 e aspettiamo di vedere quello che hanno da offrire le nuove schede grafiche Invidia e le nuove AMD e anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video io come sempre spero che vi sia piaciuto se è così mi raccomando fatemelo sapere con un bel mi piace qua sotto e nei commenti fatemi sapere se avete questa scheda video se avete intenzione di prenderla o magari decidete di aspettare o quello che vi pare insomma detto questo io vi consiglio come sempre due video che se non avete visto vi invito a guardare il primo è quello che riguarda un'altra scheda AMD cioè la RX 6800 XT che abbiamo rivisitato a fine del 2024 in un confronto con la RTX 4070 come secondo video invece vi consiglio quello riguardo la mia CPU cioè il Ryzen 9 79 50X processore che attualmente si può trovare sui 400 euro usato forse anche per qualcosina meno detto questo è veramente di tutto io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi